Se il Parma di Franco Colomba sta continuando a pieno regime la sua preparazione estiva, non si può dire altrettanto della sua casa e di quella dei tifosi crociati, lo Stadio Tardini. Tra campagne abbonamenti a rilento e interventi strutturali, sono diversi i problemi emersi all'interno dell'impianto. Già alcune settimane fa il noto portale stadiotardini.com aveva evidenziato alcuni problemi di assegnazione dei posti per gli ex abbonati pronti al rinnovo, in particolare nella curva sud parzialmente riservata al settore ospite. Per questa stagione, infatti, il Ministero dell'Interno ha imposto di lasciare libero anche il resto di quel settore, ma la società giallo-blu non ha anticipato il problema, cosicché alcuni appassionati sono stati costretti a cambiare il loro abituale seggiolino senza preavviso. Storia simile, ma con altre cause, nella tribuna centrale est, e la faccenda è quella della cosiddetta fila 12, rimossa per far posto alle 18 postazioni di G-Sport, che avrebbero dovuto ospirtare le aziende parmigiane. Il condizionale è d'obbligo, visto che stadiotardini.com ha segnalato che le strutture delle cabine sono state rimosse in questi giorni. Avrebbero infatti tolto visuale alle file immediatamente superiori, mentre per la fila 12 al danno si aggiunge la beffa. La rimozione di quei posti non era avvenuta prima dell'avvio della campagna abbonamenti, con la società costretta a restituire i soldi o assegnare nuovi posti ai tifosi che già avevano rinnovato la sottoscrizione. Impensabile ora tornare indietro rendendo fruibile quella piccola porzione di stadio, anche perché è probabile che i box G-Lax saranno costruiti più in basso, abbattendo alcuni gradoni per guadagnare spazio, lavori che richiederanno autorizzazioni. Sempre nei distinti, il sito ha già ottenuto una parziale vittoria, ottenendo la promessa della costruzione di una tettoia per i tifosi disabili nelle prime file. Grazie a tutti.